Un incendio minanciato nel pomeriggio Valle Grottari, ora il WWF del Friuli Venezia Giulia annuncia di voler installare delle telecamere anche a raggi infrarossi per monitorare la salvaguardia dell'ex Valle da Pesca, a dare l'allarme attorno alle 13.15. Sono stati alcuni residenti che hanno visto fiamme alte circa 3 metri, ha raccontato una testimona il fuoco, minacciava il canneto che porta verso Valle Grottari. Dieci anni fa, raccontano ai residenti, era successo qualcosa di molto simile, il fuoco si era propagato in maniera rapidissima. L'incendio è stato domato attorno alle 15 dall'intervento di Vigile del Fuoco e Protezione Civile, il focolaio più importante si era sviluppato su una linea di circa 200 metri. Il WWF intende installare telecamere per individuare incendi e piromani, ha precisato il presidente regionale Roberto Pizzuti.